Buongiorno a tutti. 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 Buongiorno. Buongiorno a tutti. 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 I'm sorry. a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. a tutti. Buongiorno a tutti. a tutti. a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. 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 a tutti. 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 a tutti. tutti. a tutti. 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 rout信ni. danni. Allồiación. di prendravi. tutti. Alabamaро 4. Award. ametnici. Massimo. tutti. Prendravi. S θα Straight. Yeah. Lattrabando. La medici. si Splat Theyventa. Si non è arrivato, non è arrivato, non è arrivato. No! 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 You owe me chairs! Can you give me for the list? No, we don't need here. Do you need a blank one? Yes. Right there! I would not leave it! No! I don't leave it. I always have it. And then at the end of the tournament, I give it back. Right there. In the chair. And it's on. You're welcome. After today, it's yours. Hang on a second. You're on my list? I think I am. Belarus. Belarus, yes, I have a job for you. I got for you. I don't know. Let's find out. You're on the way. Okay. Belarus, there's one. There's one, okay. Sam, uh, come on. Where are you? Sam, I think your video's done. I'm a referee in contract. Right, and you're working with, uh... Ahmad? Ahmad, hi. Ahmad, I'm gonna have you be the coach. No, Ahmad. Okay, that's right there, right? Oh, Ahmad. Okay. We're going to be the coach supervisor for the whole half. I'm bringing everybody in, and so when I get to the next position, it's gonna continue now. So you're gonna be doing that, but I'm gonna rob you. I promise. I will make it right here. or you can have my job. Let's see. Go there now, okay? Oh, 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 wait, wait, wait. Oh, thank you. I'm gonna go there. 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 Yeah, but you have something in the continental, don't you? Or do we know? No, we don't. You have no free pay license at all? National? No. No, no, you have the national free pay? Oh, no, no. Continental? Oh, no, no. Oh, no, 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 wait, don't leave. Don't leave, don't leave. Where are you? No. No, no, I don't, no, no. Oh, no. Okay, help me out. I don't see, I don't see you. Are you doing three too? Yeah, three. Grazie a tutti 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 si si è potente, magari non, ma dovrebbe continuare a 10 secondi perché si è impactato la parte della punch, per il fatto che si è effetto, non lo so se dovrebbe continuare è meglio di start e di stop se non è successo, ma questa volta si può vedere che si è effetto Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Spirito. We're back. New? No, no, no. Cala Rus. We just need to one next year. For what? This is New cool. They will not start now. They finished off and they restart the game. 11.35. Yes. We've got 20 minutes. Thank you. Look at that . 15 minuti prima di startare la divisione. Qual è? Non sono pronti. Questa è una nuova divisione. 15-20 minuti. 15-20 minuti. Sì, 20 minuti? Sì. 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 The first panel is. I've been working the judge teams. I've just been rotating them through one match at a time. And I just said athlete, scorekeeper, coach supervisor, athlete, coach supervisor, and since there's only like six matches I don't think they are doing it for too long. Quindi io lascio lì, e poi quando andiamo alla prossima, quando andiamo alla prossima, non è un buon sistema. Sì, in circa 15 minuti. Solo 10 minuti, solo 10 minuti. I guess 10 minuti. Sì, solo 10 minuti. 6 matchs. 6 matchs. 6 matchs. 6 o 7. Ok, questo è un'interessante. Let me show you why. Ok, questo è interessante perché ... ... ... ... ... ... ... ... Sì, 1339 e poi 1346. Quindi c'è una scuola, perché... Il vostro penno... No, 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 no. Perché è schedulato. E qui c'è un'altra scuola, quindi invece di aspettare, è già programmato in, quindi ha un break. Ho parlato con Esteban su questo. No, 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 bisogna solo continuare per le secondi... due taglie, perché per le nuove, ti già preparate, no, ho solo preparato i primi... i primi due marchi... E questi sono i ragazzi che stanno qui... e poi sono stato detto che ho dovuto lavorare. Quindi... hai dovuto lavorare! Ma, perché credi che ti spiei... Come, hai dovuto lavorare? Ma, hai dovuto lavorare! I did work, I work at this, I work at that, I work at whatever. Lugar, what's up? I'm not even asking. Almost everybody has had a chance to go in. Yeah, yeah. Almost, I think by the time you finish, I think everybody will have a chance to go in. If not for Kata to do anything, you need to have done something. But it's just, I mean, I was, I just didn't want to randomly keep going jumping back and forth, so I was just like, okay, unless there's a conference, we're going straight like that. You're a Judge B, we're going... And even if they don't have a WKS Judge B license, I'm having them in for one match, because they've got a conference or something. I don't know, but the problem with the family, they say the internet is very low also. It's, it's, it's the Sabbath. It's the holiday. It's the Sabbath. Wow, that's fancy. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sì, sì, sì! 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 Sì! Sì, sì! 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 I think that's it. We're in the minus 84 mil? Uh-huh. That's it? I don't know. It's... Ah, ok. Ok, ok. Are you related to this guy? Because that's how he says it, too. Ok, ok, ok. I don't know why. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. So now, next category on the tatami. May rub it the minus 75 mil? I can't believe that. Yeah, yeah, yeah. Yeah, no? I could... What if I don't know? No? Well, I don't know. I can't believe that. I can't believe that. I can't believe that. See? Yeah, yeah, of course. Ok. Ok. You should be fighting. You should be fighting already. What now? Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 ... 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 Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Sì, sì. Sì... 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 Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 Sì, 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 sì. Grazie, grazie. 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 Sì, è stato un po' di giocato, il giocato 3, il giocato 0, quindi il giocato 3, quindi il giocato 6, quindi è stato un po' di giocato. Allora, quando si chiama A infatti B, B infatti C, B infatti A, e Acco vince ogni 1 di loro, quindi hanno i st��i opini. Dopo si arriva a numeri criteri, chi ha il miglioro sconto, come se si veni 8-0, è meglio che se veni 2-0, perché c'è la differenza di pochasi. quindi ci sono molti diversi criteri che si avvicinano al quattro finale quindi ogni uno di questi abbiamo un pool di 32 abbiamo 4 in ogni pool quindi abbiamo 8 pools di pool e questi 4 persone si avvicinano e poi il vinto è che il quattro finale in cui abbiamo un'avvicinatore? I'm the only office I don't know per me, do we use you? yeah I used you I don't know and now I'm not doing this I tried to make sure everybody but you still have a license in your confessed but national? do you have any swimite license? no licenze in your country no licenze in the partner oh well you should I'll try is one sure I ain't no well Oscar 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 he has a question he does he's curious he has no committee license nationally he is just a column are you going to use it? no, now we're going to Google but if he says we can use it we will put you in as you know, to play no, no, you can continue we should be able to provide that he's definitely been doing that ok don't move forward to getting rolling ok 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 Grazie a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. 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 . a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . . a tutti. . . a tutti. . . a tutti. . 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 We need a storekeeper. Wait, 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 wait. I don't see what. I'm right. I go to the lunch after I can run. Okay. It's okay? It's okay now? Emilio? Yes. Omar. Okay. We are ready. Yes. Should I continue the report about the non-discipline problem yesterday? Yes. Okay. We are ready. Okay. Was it very short? Okay. Grazie. 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 So that's the end of male committee plus 84 kilograms. We will come back with female committee plus 68 kilograms in 5 minutes. Five minutes. Five minutes. Five minutes. Five minutes. Five minutes before they bring the bow. That wasn't your practice. You look great. Five minutes, my friends. Five minutes. Five minutes. I was actually looking for me. What's very nice. That's the morning. Yes. That's what I do. Then the next thing. That's right. Pass us. Come. Come. Did you have a chance to take a nice tour around the White City? That's a restaurant. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 Grazie 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 a tutti. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 See, Oscar's here, I told you. No, 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 no. One, no, 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 no. One of the cameras is not working. One of the cameras is not working. No, 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 no. Okay, for now, no, 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 no. Go, 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 go. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alle, alle. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 alla prossima. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. è Fakka. a tutti. fanno. a tutti. Grazie 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 a tutti. Okay? 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 Yeah? Grazie a tutti. Yeah? Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. ...except for the ones that are in there... ...yeah... ...non accanto... ...yay! ...alho... ...non accanto... ...non accanto... ...non accanto... ...non accanto... ...non accanto... On fire! On fire! Yay! And the winner in time number 3, Panna Abdullajev from Azerbaijan. Now it's time for the quarter-finals of Females Cupide, minor 68 kilograms. At the time number 1, Alisa Bultisle from Austria. Auxilia Severano from Italy. At the time number 2, Aga Gavno Torrella from Azerbaijan. Aux Feriat Abdeladis from Belgium. At the time number 3, Aga Alina Menly from Ukraine. Aux Elina Cieli Menlyeva from Ukraine. At the time number 4, Aga Elena Tirulici from Switzerland. Aux Irina Sareska from Azerbaijan. Auxilets. 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 Grazie a tutti. 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 So, Grazie a tutti. 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 Sì, 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 sì! Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Sì, perfetto. Sì, perfetto. Sì, perfetto. Sì, perfetto. Sì, perfetto. Sì, perfetto. Grazie a tutti. 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 I need a referee for this France versus Finland. I need one more video review. I need a referee and a conza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. What do you think of that panel? Grazie a tutti. 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 in the quarters he doesn't get it in the semi if he lost it in the quarterfinals they did not get it back in the semi-finals no cards no 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 egypt doesn't have a coach because they're protesting Sì! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti.